Musica Dallo stand Langhe di Monaco vediamo le novità della gamba della casa francese per la prossima stagione. Quest'anno introduciamo il nuovo XT, una scarpa per scettori All Mountain P-Ride, dalle alte performance. La scarpa ha vinto l'ISPO Award perché come vedete è una scarpa che è caratterizzata dall'offrire una grandissima performance in discesa, una camminabilità molto elevata e allo stesso tempo è una scarpa molto leggera. Queste tre cose insieme introducono un nuovo concetto di versatilità. Allora andiamo a vedere perché siamo riusciti a fare questa scarpa con queste caratteristiche. Abbiamo un meccanismo completamente nuovo, un meccanismo ski hike nella parte posteriore. Il gambetto è in grado di aprirsi molto di più, quindi 20 gradi allineato al livello della concorrenza del settore. Ma quando andiamo a mettere la scarpa in posizione di ski, quello che succede è che la scarpa diventa un pezzo unico. Quindi abbiamo un meccanismo nuovo con un elemento metallo su metallo di connessione che fa sì che scafo e gambetto diventino un elemento unico. Quindi grandissime performance in discesa. Allo stesso momento abbiamo lavorato anche sulla camminabilità, quindi la facilità di camminata. Come abbiamo fatto, vedete che il profilo delle suole è un profilo V8PR, quindi in camminata si può sfruttare la rullata della scarpa stessa e quando la scarpa è all'interno dell'attacco manteniamo la sicurezza dovuto al fatto che è presente un elemento in plastica. Quindi da una parte camminabilità ma dall'altra abbiamo anche sicurezza e performance nell'attacco stesso. Infine, come dicevo, una scarpa molto leggera, siamo appena sopra ai 2000 grammi al mezzo paio, quindi sicuramente la scarpa più leggera e su questo livello di performance, quindi innovativi anche in questo aspetto. Proponiamo le scarpe in 3 flex per l'uomo, da 130 a 100, le indietro che io le mie spalle, 130, 120 e 100 per l'uomo e su donna con scarpe insulator 110, 90 e 80. La maggior parte delle scarpe viene proposta con due forme, quindi sia 97 per piedi piuttosto piccoli e per chi ha il piede un pochino più abbondante con forma 100. Quindi grande attenzione anche al fit e possiamo sicuramente dire che l'XT è la scarpa con un meccanismo ski-hike che scia meglio in discesa. Grazie.